Musica Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Approvato l'assestamento alla bilancio di previsione 2016 della Regione Umbria. Le variazioni riguardano 4 milioni 100 mila euro per interventi suddivisi su varie misure. Il servizio. L'Assemblea Legislativa dell'Umbria, con 13 sì della maggioranza e 6 no dei gruppi di opposizione, ha approvato l'assestamento al bilancio di previsione 2016-2018 della Regione Umbria. Le variazioni riguardano 4 milioni 100 mila euro per interventi suddivisi su varie misure, aumentato di 7 milioni 400 mila euro il ricorso al mercato per nuovo indebitamento, al fine di acquisire al patrimonio indisponibile della Regione alcuni beni del Consorzio TNS di Terni e del Consorzio Crescendo di Orvieto. La Presidente Marini ha parlato di assestamento coerente con la legge di bilancio 2016, con i quali si destinano 1 milione 200 mila euro per la mobilità e il trasporto pubblico locale, 550 mila euro per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, 40 mila euro per interventi di prima emergenza della sisma di Castelgiorgio, 370 mila euro per l'emergenza a Chironomi di Allago Trasimeno, 300 mila euro per il Palasport Evangelisti di Perugia, 250 mila euro per l'incremento del fondo per l'aeroporto San Francesco di Assisi e 200 mila euro per i centri antiviolenza. Con un emendamento a firma di Smachi, Barberini e Paparelli del PD e approvato dai gruppi di maggioranza e dal Movimento 5 Stelle, sono stati inoltre estanziati 300 mila euro a favore delle donne vittime di violenza, giovani disoccupati residenti in zone marginali e adulti in condizione di disoccupazione e vulnerabilità. Respinto un emendamento della Lega Nord che stabiliva distanziare 100 mila euro per interventi in favore della disabilità. Approvati infine quattro ordini del giorno riguardanti i contributi a favore delle eco-feste proposto da Andrea Smachi del Partito Democratico, promozione di un servizio di mobilità notturna per gli studenti proposto da Carla Caciari e Giacomo Leonelli del PD, limiti per le nomine dei componenti del Consiglio SASE Aeroporto proposto da Eros Brega del Partito Democratico e infine contributi per lo sviluppo delle imprese start-up innovative a firma di Marco Squart dei Fratelli d'Italia. L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato con 13 voti favorevoli e 7 contrari il rendiconto generale dell'amministrazione della Regione per l'esercizio finanziario 2015. Paolo Giovagnoni. Da quando è iniziata la crisi abbiamo fatto solo misure di contenimento a fronte di ingenti taglie alle risorse dovuti ai provvedimenti sulla spesa pubblica. È dunque evidente la capacità dell'amministrazione di gestire le finanze dell'ente. L'ha detto in aula la Presidente della Regione Umbria, Katiuscia Marini, tirando le somme del rendiconto 2015. Sono state svolte azioni di razionalizzazione e contenimento delle spese, un pacchetto di riforme del sistema delle agenzie e delle partecipate con benefici anche dal punto di vista contabile. Sulle spese è stato scelto di ridurre componenti e compensi di tutti gli enti e agenzie regionali, applicata la riduzione di gettoni e compensi nelle partecipate, meno 80%. Dimezzate le partecipate da 7 a 3, di cui una sola SPA, sviluppo Umbria e due SCAR, nessuna società in perdita. Rivendico con orgoglio, ha detto la Presidente, che supportiamo anche associazioni culturali, non solo grandi eventi e manifestazioni. L'Assemblea ha anche approvato con 18 sì della maggioranza e le due astensioni del Movimento 5 Stelle un ordine del giorno proposto dal consigliere Andrea Smacchi, che impegna la Giunta regionale a promuovere, nell'ambito della conferenza Stato-Regioni, la richiesta di un tavolo di confronto finalizzato a partecipare e modificare le attuali regole contabili con l'obiettivo di restituire una maggiore flessibilità negli investimenti agli enti locali. Smacchi ha spiegato che il combinato disposto dei tagli ai trasferimenti delle regioni e le modifiche alle norme in materia di bilancio stabilite dalla legge di stabilità per il 2016 mettono la regione Umbria nelle condizioni di non poter trasferire risorse agli enti locali. Molto critiche le relazioni svolte in aula dalla minoranza. Per il Movimento 5 Stelle, Maria Grazia Carbonari parla di un atto nemmeno valutabile, per nulla trasparente, nonostante gli auspici. È l'ennesimo assegno in bianco firmato a una giunta totalmente autoreferenziale. Mentre per Raffaele Nevi, di Forza Italia, è necessario innovare e costruire politiche più virtuose. Basta coi bilanci fotocopiati di anno in anno. Claudio Ricci ha rimarcato che c'è ancora molto da fare in termini di tagli agli sprechi e alle inefficienze. Mentre il capogruppo della Lega, Emanuele Fiorini, ha detto che l'atto è stato descritto come una favola, ma ai cittadini non servono sogni, ma iniziative concrete. E sempre nell'ultima seduta dell'Aula di Palazzo Cesaroni, ha approvato anche il rendiconto dell'Assemblea Legislativa per l'Esercizio Finanziario 2015. Paolo Giovagnoni E' stato il Vice Presidente dell'Assemblea Legislativa, Valerio Mancini, a illustrare in Aula il rendiconto 2015. Il risultato definitivo delle entrate ha spiegato risulta essere complessivamente di 25,6 milioni di euro, di cui 21 milioni e 97 mila quali entrate di parte corrente, 3 milioni e 337 mila quale avanzo di amministrazione del 2014 applicato al 2015. Infine 726 mila euro, fondo pluriannale vincolato, determinato per effetto del riaccertamento straordinario dei residui. Le spese che riguardano il bilancio dell'Assemblea Legislativa sono inerenti ai servizi istituzionali che rientrano nelle competenze specifiche dell'ente e considerate obbligatorie per legge. Le voci che incidono maggiormente sul bilancio dell'Assemblea Legislativa riguardano spese per gli amministratori regionali, le cui componenti principali sono riferite alle indennità, ripiano per l'erogazione degli assegni vitalizi, spese per i contributi ai gruppi consigliari, spese per il funzionamento e per il personale. Il risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario 2015 si chiude con un saldo positivo di 4 milioni 76 mila euro. La spesa per il personale è calata di oltre un milione di euro negli ultimi tre anni. L'ufficio di presidenza di Palazzo Cesaroni ha deliberato di restituire al bilancio della regione una quota dell'avanzo libero che ammonta 300 mila euro. Il capogruppo del Partito Democratico, Gianfranco Chiacchieroni, ha sottolineato come l'Umbria abbia contenuto le proprie spese in maniera significativa. Abbiamo vinto una scommessa, ha detto, potendo contare su un'assemblea legislativa con un terzo dei consiglieri in meno, ma che lavora quanto la precedente, se non di più, con un sensibile contenimento dei costi. Un messaggio di fiducia nel futuro, ha concluso, per le nostre istituzioni. Prosegue il lavoro della Commissione per le Riforme Statutari e Regolamentari. Nell'ultima riunione affrontate le questioni relative a delega e assenze dei lavori, relazione tecnico-finanziaria delle leggi, gruppo misto, portavoce delle opposizioni, valutazione dell'attuazione delle leggi. Vediamo. La Commissione Statuto si è riunita a Palazzo Cesaroni per proseguire gli approfondimenti sulle modifiche al regolamento interno necessarie per garantire maggiore funzionalità ai lavori dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. La Commissione ha affrontato la questione della sostituzione di un consigliere nei lavori di commissione, decidendo all'unanimità che potrà avvenire previa autorizzazione scritta del Presidente del gruppo consigliare. Sulla disciplina delle assenze dai lavori in termini di detrazioni economiche, la Commissione ha poi deciso di approfondire e chiarire il relativo articolo del regolamento. Sull'iniziativa legislativa di natura consigliare è stata affrontata la questione della relazione tecnico-finanziaria delle proposte di legge e degli emendamenti, la cui stesura può essere delegata ai competenti uffici della Regione, prevedendo che essa indichi i mezzi per fare fronte a minori entrate o maggiori spese, fonti e coperture finanziarie, affrontate inoltre le questioni relative al funzionamento del gruppo misto, alle regole per la revoca del portavoce delle opposizioni e le sanzioni politiche per la mancata attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea. La terza Commissione predispone una proposta di risoluzione sulle problematiche connesse alla non autosufficienza e all'accesso alle prestazioni. Il servizio. Rafforzare il sistema di protezione sociale e di cura delle persone non autosufficienti e delle relative famiglie, potenziando l'offerta complessiva di servizi domiciliari al fine di favorire la permanenza al proprio domicilio delle persone in condizioni di non autosufficienza. E' questo, in sintesi, il dispositivo di una proposta di risoluzione approvata dalla terza Commissione, presieduta da Tilio Solinas, con i voti favorevoli dei commissari della maggioranza e l'assenzione di quelli di opposizione. Unitamente all'atto di indirizzo è stata anche votata, con lo stesso risultato, la relazione sull'attuazione degli interventi nell'ambito del Fondo per la non autosufficienza relativamente all'anno 2014, in adempimento alla clausola valutativa della legge regionale 11 del 2015, il testo unico in materia di sanità e servizi sociali. Per entrambi gli atti, il relatore in aula sarà lo stesso presidente Solinas. Nel documento predisposto dalla Commissione viene rimarcata l'importanza di una maggiore chiarezza da parte dell'assessorato competente rispetto ai quesiti della clausola valutativa, con particolare riguardo al numero delle persone non autosufficienti residenti in Umbria. Nella relazione viene evidenziata, tra l'altro, una disomogeneità tra le due aziende USL, ma la mancanza di dati, viene rilevato nel documento della Commissione, non consente di analizzare puntualmente la tipologia di utenza, i bisogni assistenziali e la domanda di prestazioni e di servizi di cura e di assistenza, nonché la tipologia di offerta delle diverse zone sociali. Nuovo piano sanitario regionale. Sul documento predisposto dalla Giunta, audizione in terza commissione. Paolo Giovagnoni La Commissione Sanità e Servizi Sociali dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, presieduta da Tilio Solinas, ha ascoltato i medici rappresentanti del gruppo DISCO, acronimo che sta per Direttori di Struttura Complessa. Erano presenti Mauro Berrettini, Fausto Roila, Sara Mandorle, Enrico Boschetti, Ferruccio Farroni, Giacomo Antonini, Mauro Zampolini. Al centro della discussione le proposte dei primari in merito ad alcune problematiche della sanità Umbra riguardanti l'area dell'emergenza urgenza, l'area materno-infantile, i rapporti tra ospedali e servizi territoriali. Rappresentata anche la richiesta di partecipare alle decisioni strategiche in tema di allocazione delle risorse. L'organismo, costituito dai primari, si pone come interfaccia tra il livello decisionale e strategico, quello di politici e direttori aziendali, e l'utenza, allo scopo di fornire risposte anche organizzative per ridurre al massimo i disagi, con la consapevolezza che non si possa prescindere dal convolgimento degli operatori sanitari e dalla condivisione delle scelte organizzative assunte a più alto livello. Per quanto riguarda l'emergenza urgenza, chiedono che il 118 sia rivisto, soprattutto per quanto riguarda il personale, in termini di adeguatezza numerica e di formazione. Le priorità dell'area materno-infantile per i medici del gruppo Disco sono l'attivazione del servizio di trasporto d'emergenza neonatale e del servizio di trasporto assistito materno, organici adeguati a sostenere una guardia medica attiva H24 e posti letto di reanimazione pediatrica. Inoltre propongono l'istituzione di un pronto soccorso pediatrico regionale, dipendente dalla clinica pediatrica dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, per poter ridurre il numero di accessi impropri al pronto soccorso di pazienti in età pediatrica. Altra proposta dei primari riguarda un programma per facilitare la dimissione ospedaliera e la contemporanea presa in carico dei pazienti da parte dei servizi territoriali nella continuità di cura, attraverso la definizione di protocolli di continuità assistenziale ospedale-territorio, con percorsi di dimissione protetta, percorsi riabilitativi. Per tutti gli aspetti trattati i medici chiedono a gran voce un'informatizzazione condivisa, integrata dei dati ospedalieri, un sistema informativo unico regionale, nel quale siano inseriti tutti i dati di tutte le attività quotidiane e di tutti i servizi, per ottenere un vero controllo gestionale. Ed è tutto per questa edizione, vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria e anche disponibile in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale, consiglio.regione.umbria.it e su Youtube. TeleCRU si fermerà per il mese di agosto, quindi l'appuntamento è al prossimo mese di settembre. Grazie per averci seguito e arrivederci. Grazie per aver guardato il video.